Sono qua ragazzi. Ok grazie. Una trattativa piuttosto veloce è quella tra il direttore sportivo Simone Sabbadini ed il centrocampista Simone Palermo. L'ex Centella è arrivato al Ravenna titolo definitivo fino a giugno e conferma il grande sforzo economico della società giallorossa, segno che si punta alla salvezza diretta. Il sacrificio che ha fatto la società è un sacrificio importante. Viene da dire che fa anche vedere che quando c'è da fare le cose si fanno e quindi c'è da dirgli solo grazie. Nel prossimo impegno, domenica alle 14.30, i bizantini saranno in scena l'Atleti Azzurri d'Italia contro l'Albino Leffe, un match da non fallire in chiave salvezza. Domenica ci aspetta l'Albino Leffe, pensiamo una partita alla volta, quindi siamo concentrati per andare a Bergamo e portare a casa punti. Come del resto cercheremo di farlo anche in tutte le altre partite. Sono dieci finali, lo ripetiamo da tanto, ma è la verità. Grazie.